La Regione ci ha abbandonato, per cui si diano qualcosa di positivo e chiediamo alla provincia che garantisca i trasporti esclusivamente provinciali. Il caso AIRA proda in consiglio provinciale e l'azienda di trasporti irpini rischia di non poter partecipare alla gara europea che bandirà la Regione Campania per l'affidamento del servizio. C'è dunque la concreta possibilità che l'AIR scompaia o che venga accorpata ad un'azienda più grande. Lavoratori e sindacati sono preoccupati per la tutela dei livelli occupazionali e il possibile ingresso dei privati. Dalla loro parte si schiera la provincia che questa mattina ha aperto le porte ai dipendenti. La provincia di Avellino, che è stata già penalizzata dal taglio di chilometri, 5 milioni di chilometri in meno dal 2010 ad oggi, non può rischiare anche di perdere un'azienda che oggi determina il 90% dei chilometri garantiti a studenti, a pendolari, a lavoratori e che soprattutto che questa azienda addirittura non possa partecipare alla gara. Questo è molto preoccupante soprattutto dal punto di vista occupazionale, del futuro occupazionale dei 300 lavoratori e delle famiglie. Il Consiglio ha inoltre deciso di prendere una dura posizione contro i tagli che ancora una volta arrivano dal Governo centrale, pronto un esposto cautelativo alla Procura della Repubblica. Le province non sono in grado di approvare i bilanci. Entro il 31 marzo noi non approveremo i bilanci in tutta Italia. È una follia, un ulteriore taglio di un miliardo di euro che è stato fatto con l'ultima legge di stabilità. Sono 3 miliardi in tre anni. Questo vuol dire di fatto non garantire la sicurezza non solo degli utenti delle strade, ma soprattutto di 2 milioni e mezzo di studenti che in tutta Italia tutte le mattine vanno a scuola, nelle scuole superiori, in cui le province garantiscono luce, gas, acqua, telefono, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.